E' un'altra cosa. Mi dai gli ordini. Ah, è che quello lì stava cercando. Cioè, controlliamo i documenti. Lei sta facendo delle insinuazioni pesanti, ha capito? Con la faccia che c'ha adesso. Non c'è bisogno che tira perché non è che scappa. Intanto hai allungato il passo. Hai allungato il passo perché c'ho la gamba più lunga. Eh sì, la gamba più lunga. Ma mi fa cedere il biglietto, se ce l'ha. Se non ce l'ho, l'ho perso. Se non ce l'ha, le farò a futuro la contravenzione. Se lo troverò, si rimangerà anteriore. Può essere che sia questo. Cioè, 20 minuti per farlo saltar fuori? Comunque questo biglietto è pluritimbrato. Eh? È stato timbrato più volte questo biglietto. E si vede che l'ho pagato di più? Dica stupida, guarda, questi biglietti costano tutti la stessa cifra. Mi spiace ma li devo fare la contravenzione. Cioè, non me l'ha venduto un suo collega come abbonamento. Non credo proprio, non credo proprio che i colleghi... Allora, comunque, se lei è ignorante non è colpa di nessuno. Ignorante, io lo dice a un'altra persona, non a me. Ignorante nel senso che ignora che quello è un biglietto singolo. Allora, lei è un imbecille nel senso che imbelle... Cos'è successo qua? Niente, non c'è il biglietto. Aiè, mi dia una bella multina. Senta, per favore, già è difficile, se viene qua anche lei è un disastro, per favore. Ora si aggregano a tutti. Senta, dalla multina. Nome e cognome, avanti. L'ha scritto? No, l'ho scritto, non ha detto niente, l'ho scritto. Ho visto che scriveva... Eh, come faccio? Me lo immagino. Allora, che cosa sta scrivendo? Eh, cose miele. D'è che sono qua a perder tempo. Per favore, io non sono qua a perder tempo. Se ne è da perder tempo, vado a vedere gli scavi. Sì, ma qua non c'è dentro niente. Non c'è il documento. Come non c'è il documento? E allora, dov'è sto documento? Mi seri, ma hanno fregato il documento. Come le ha fregato? Ma porca miseria, ma guarda che devo arrivare tutta la cosa. Ma non dico più vita, te le fregano il documento e le lasciano il portadocumento. E sono diventati bravissimi, sono diventati, porca miseria. Senta, tenga qua. Ma porca miseria, ma perché non ha fatto fare miseria? Andiamo di fattura e adesso lo incontriamo. Eh, beh, 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 beh. Eh, beh, beh, beh. Porca, uccida. Senta, tenga qua.